buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'iniziativa stiamo in casa verba volant questa volta ci siamo lasciati ispirare dal mare chiuso che è il nostro primo libro da parati quello che ha dato vita questa collana di libri che si aprono e diventano dei poster è un libro che parla di mare balene e ricordi in una prima parte sarà elio a mostrarvi come è possibile realizzare partendo da un piccolo foglio di carta quadrata una balena con la tecnica dell'origami nella seconda parte invece sarò io stessa a mostrarvi come realizzare il vostro mare da tavolo non mi resta che augurarvi buona visione e buon divertimento grazie a tutti 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 adesso che con elio avete realizzato la vostra balena origami possiamo passare alla fase in cui realizzeremo con un semplice foglia 4 e dei pastelli colorati il nostro mare da tavolo io ho utilizzato un foglio bianco e dei pastelli perché non so cosa potete avere a casa chiaramente se avete dei fogli di cartoncino di cartoncino blu azzurro potete utilizzarli benissimo così come per la decorazione se ne avete potete utilizzare sabbia colorata conchiglie corallini di plastica o tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce alla fine naturalmente applicheremo su questo mare tridimensionale le nostre balene sperando di poter fare tutti insieme un tuffo al più presto grazie a tutti 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 grazie a tutti